buongiorno oggi lo zio vi fa vedere una cosa più leggera un bel risotto cacio e pere utilizziamo un paio di pere per quattro persone abbiamo del pecorino del riso carnaroli adesso andiamo a fare un buon brodo con sedano cipolla e carola come vedete io non ho messo olio nella pentola poiché già abbiamo i grassi che inseriamo nel risotto aggiungiamo anche un rametto di rosmarino saliamo pepiamo mettiamo il coperchio e portiamo a ebollizione adesso facciamo una bella tostatura al riso ragazzi la tostatura al riso si fa senza grassi senza olio altrimenti il riso non si tosta lo tocchiamo con le mani appena è bollente che non riusciamo più a toccarlo lo mettiamo da parte adesso sbucciamo queste due pere queste due pere vanno bene anche per quattro persone fate prendete la grattugia quella la per la frutta ce l'avete la grattugia per la frutta e ve la dovete comprare grattugiamo queste pere mettiamo nel boccale del frullatore a immersione aggiungiamo un poco di pecorino e un poco d'olio frulliamo per bene finché non otteniamo un bel composto liscio e velutato vedete come in questo caso poi andremo a spezzettare quattro cinque noci a mano spezzettiamo quattro cinque noci in modo grossolano vedete adesso l'acqua del brodo a bolle noce di burro filo d'olio in padella giochiamo un pochino con lo slittino ragazzi io amo fare il giochini con lo slittino nella padella e aggiungiamo il risotto che abbiamo tostato in precedenza mettiamo anche qualche mestolo di brodo stiamo un dito sopra il riso ovviamente questo riso carnaroli ha bisogno di una cottura di 12 minuti due minuti prima che sia cotto il riso cioè dopo dieci minuti inseriamo questa cremina di cacio e pere ovviamente siccome che le pere sono dolciastre aggiustiamo di sale assaggiamo e aggiustiamo di sale questo piatto me l'ha chiesto proprio una nutrizionista sembra una barzelletta una nutrizionista che segue la mia pagina ragazzi mamma mia e mi ha chiesto fai qualcosa di salutare ragazzi più salutare di così io ci rinuncio poiché sono anti dieta al riso cotto spegniamo il fuoco aggiungiamo una noce di burro gelata mantechiamo per bene con un altro poco di pecorino andiamo a impiattare mettiamo una bella spolverata di pepe e queste noci che abbiamo spezzato prima a mano ed ecco qui dottoressa la dieta noi non la seguiamo mai viene natale dice vabbè la facciamo dopo natale poi dopo natale viene la befana vabbè quando finisce la calza inizio a fare la dieta poi si fa il mese la dieta poi viene pasqua dice vabbè dopo pasqua faccio la vita e poi dopo pasqua fino all'estate i matrimoni i compleanni vabbè andiamo al matrimonio a compleanno abbiamo cacciato i soldi per l'abusto poi viene agosto vabbè dopo le ferie mi metto a dietro a se ne parlo a settembre e questo è il periodo della dieta da settembre a natale due mesi ragazzi comunque fate questo risotto che è uno spettacolo bene lo zio vi saluta e vi da appuntamento al prossimo video ciao